Ovviamente quando uno scrive un testo in lingua palermitana pensa che magari possa arrivare solamente fino ai nostri confini siciliani invece il lavoro è stato apprezzato anche fuori da Sicilia e sono molto contento Io dico sempre che il Russo Malupilo è quel piccolo ribelle che ognuno ha dentro la propria testa che si ribella per le cose che non vanno bene è che ha sempre la forza, non come dice Verga, al quale lui non dà nessuna speranza ma invece io ho voluto restituire a Russo Malpilo una speranza di poter cambiare di poter rinascere oltre la lotta che si fa per tutta la vita Anche come Russo Malpilo, anche nello Spaccaossa si può parlare di una rimendicazione dei diritti dei diritti alla dignità e quindi sicuramente questo ponte mi ha aiutato molto ad esprimere un po' quello che io ho sempre pensato, cioè mettere l'arte al servizio della denuncia e quindi un film come Spaccaossa che denuncia una delle più spietate, malefatte dell'uomo verso altri uomini per me è stato un onore far parte di questo film poi quando Vincenzo Pierrotta me ne parlò rimasi molto colpito dalla sfumatura che lui ha messo oltre il fatto di cronaca quindi c'è una storia d'amore all'interno, ci sono dei conflitti interni da parte del protagonista quindi non è solamente un prodotto che documenta quello che è successo c'è tutto un aspetto artistico secondo me molto molto spietato come dicevo poco fa ma anche affascinante